La presentazione del rapporto minori alla fine ha confermato quello che dicevamo da tempo, è un'urgenza, un'urgenza che c'è in particolare in alcune parti del paese, che preme su alcuni comuni, ma che è un'emergenza nazionale perché i numeri sono importanti. La vogliamo far diventare non più un'emergenza ma una gestione strutturata attraverso quello che prevede la legge e che i sindaci stanno chiedendo da tanto. Hub di primissima accoglienza e poi posti sai diffusi sul territorio, che poi è un po' le parole che il prefetto Valenti ha utilizzato e che la garante Garlatti ci ha invitato appunto a proseguire come costruzione del sistema. Noi lo diciamo da tanto tempo, questo lavoro è frutto di un lavoro che Anci ha fatto nel corso degli anni. Se deve passare attraverso un momento emergenziale va bene, lo stesso, l'importante è arrivare all'obiettivo, l'importante è far sì che non ci si faccia trovare impreparati di fronte ai numeri che stanno crescendo, di fronte a una tipologia di ragazzi diversi che stanno arrivando, sono più giovani, ci sono più ragazze. Insomma è bene ora finalmente dare una svolta definitiva al sistema dell'accoglienza dei minori.